scambiamo quattro chiacchiere sull'equalizzatore chi frequentatore del campo audio non è rimasto affiscinato da giovane un inizio carriera dall'equalizzatore questo apparecchio dal nome così promettente e dall'aspetto così pieno di potenziometri sul quale intervenire e maneggiare il suono per renderlo come piace a noi beh poi crescendo ci siamo forse un po tutti chiesti io l'ho sicuramente fatto se l'equalizzatore davvero utile oppure no e la risposta che mi sono dato e la risposta peggiore che si dà quando si fanno questo tipo di domande cioè la risposta è dipende dipende è una risposta veramente antipatica ma effettivamente dipende sempre e in questo caso qui dipende non tanto dalla qualità o dal tipo di equalizzatore a proposito più avanti affronteremo i quali sono i due le differenze tra i due tipi di equalizzatore il grafico il parametrico ma dipende principalmente da che tipo di fruitore o di professionista del campo audio tu sei potresti essere un creatore di musica quindi avere uno studio di distrazione essere addirittura musicista un creativo della musica potresti essere un amante della stereofonia una fino ad arrivare ad essere un audiofilo questa parola dal connotazione così negativa che invece così negativa non è perché uno può essere tranquillamente un amante degli impianti stereo anche spenti così c'è così come ci sono gli amanti degli orologi o delle macchine d'epoca oppure potresti essere un professionista dell'audio che sono un progettista di impianti per pia per public andressing quindi dal impianto per il disco pub all'impianto per i militari all'impianto per la diffusione sonora o per un allarme antincendio diciamo ecco che l'equalizzatore può essere più o meno utile a seconda di di quale figura tu sia ed allora proviamo a partire e diciamo che l'equalizzatore è sicuramente utile a chi crea musica a chi ha uno studio di registrazione non tanto chi suona chi suona è tutto preso dal proprio strumento con il quale in effetti potrebbe ricercare un suono particolare agendo sull'equalizzatore ma l'equalizzatore molto usato proprio nello studio di registrazione nel momento in cui il fonico ad esempio l'esigenza di diversificare due chitarre che nel mixaggio si sovrappongono troppo ed ecco che si va a equalizzare in maniera diversa e complementare le due chitarre sacrificando magari il suono dell'una per far sentire l'altra e viceversa o ancora quando si debbono far sentire contemporaneamente e in modo sempre soddisfacente basso e cassa della batteria tutte e due insistono sui sulle frequenze più basse e un attento un attento equalizzazione permette di farle risaltare entrambi nell'economia del gruppo e non del singolo l'equalizzazione è importante per chi crea musica anche proprio per inventarsi un suono per diversificarlo dai suoni che già ci sono o invece per rendersi coerenti per copiare i suoni che già si sentono che fanno parte del mainstream che corre in quel momento in questo momento storico ad esempio i suoni dei maneskin sono la fanno da padrone e vengono imitatissimi se ci fate caso di tutt'altro opinione sarà invece l'audiofilo che vede l'equalizzatore come satana probabilmente sì in effetti ha ragione perché ha acquistato l'audiofilo il suo impianto andandolo ascoltare scegliendo le facendo altri pagare magari pagandolo anche parecchio apparecchio che gli è piaciuto tanto per la sua neutralità oppure per le sue caratteristiche oppure per il progetto particolare fatto dal tal progettista per poi portarlo a casa attaccarci un equalizzatore mettersi a variarlo giocando con i potenziometri alti e bassi lati lei proprio di no chi è alla ricerca dell'alta fedeltà cerca il massimo della trasparenza della riproducibilità dell'evento sonoro non dei fuochi d'artificio o del loudness a tutti i costi il loudness inteso come la ricerca di esaltazione degli estremi di banda in questo caso ed altronde che senso avrebbe inserire un apparecchio in più nella catena audio che deve essere più pulita possibile facendo attenzione addirittura al tipo di cavi che si connettono che senso avrebbe inserirci un apparecchio che è altamente impattante sulla catena e sul flusso delle informazioni sonore dovendo passare attraverso una serie di filtri che tra un attimo vedremo quindi l'equalizzatore tanto piace al creativo tanto viene odiato dall'audiofilo e invece l'amante dell'home theater che spesso nel proprio sinto amplificatore o a corredore sinto amplificatore ha un bottone un microfono è un software che lo aiutano a calibrare il proprio impianto in effetti l'equalizzatore viene spesso raccomandato per correggere o risolvere problemi ambientali e ci sono appunto dei software che promettono di miracoli questo senso devo dire che non ho un'idea precisissima su questa opinione perché contemporaneamente su due cose cioè so che ci sono dei software potentissimi che riescono a fare miracoli ad esempio nel video e nella fotografia sapete bene che con photoshop posso diventare alto e biondo o i film che vediamo in televisione ricreano mai realtà che nella realtà non esistono veramente in realtà questa potenza di calcolo può essere usata anche nell'audio ed in effetti se noi mettiamo un microfono nel punto di ascolto dove ci troviamo e chiediamo software di sistemare i vari problemi a proposito il video che abbiamo abbiamo presentato sul nostro canale e i sui nodi e modi di risonanza andrebbe magari visto su questo riguardo questi argomenti dicevo se chiediamo software di sistemare i problemi lui lo può fare lui riuscirà sicuramente a farlo non è difficilissimo il problema è che si è esposto il microfono di 5 centimetri i problemi sono altri e quindi quello che valeva prima non vale più adesso certo si può fare una media tra 5 6 posizioni software farà una media e una regolazione di massima ma appunto una regolazione di massima non si potranno mai risolvere i problemi di acustica ambientale quindi nel dominio del tempo quindi delle riflessioni delle distanze con un nicolizzatore che invece lavora nel dominio delle frequenze cioè alti medi e bassi quindi secondo me l'uso del software nella correzione dell'acustica ambientale nell'home theater o comunque nella alta fedeltà è un po tirata per i capelli mentre invece è utilissima per la terza categoria di fruitori dell'audio cioè i professionisti quelli che devono fare degli impianti abbiamo detto piacer rivolti al pubblico questi tipi di impianti non hanno come oggetto principale il suono fantastico e meraviglioso che può avere un impianto di alta fedeltà esoterico al progettista di impianti di diffusione sonora sono richieste altre caratteristiche ci sono dei capitolati da rispettare magari anche molto restrittivi se ad esempio si sta facendo un impianto per una nave militare o per un impianto antincedio capite capite che gli obiettivi da raggiungere sono altri il microfono onde fischiare l'intellegibilità del parlato deve essere garantita al cento per cento e in questo caso gli equalizzatori invece possono essere molto importanti togliendo quelle che sono problematiche viceversa non risolvibili non si può certo andare a modificare l'acustica di una chiesa o di un palazzo dei congressi ma possiamo abbassare parecchio la frequenza di risonanza che fa risuonare i bassi o fa fischiare il microfono abbassare dicevo con un equalizzatore eliminando il problema e garantendo il risultato ancora più potenti sono gli equalizzatori e comunque processori di segnale che utilizziamo negli impianti per videoconferenze dove ci sono nello stesso posto più persone che parlano altoparlanti microfoni tutti assieme ed ecco che equalizzatori e anche i ritardi e auto mixer pilotati da software sempre più utenti in realtà in questo caso hanno risultati davvero efficaci come avevamo accennato precedentemente vediamo i due tipi di equalizzatori principalmente presenti nel nostro nel mondo audio che avrete sicuramente sentito nominare si tratta di equalizzatori grafici e degli equalizzatori parametrici eccoli qua gli equalizzatori in generale non sono altro che dei volumi che invece che intervenire su tutto il range di frequenze quindi alzare abbassare tutto il volume della nostra musica o contenuto alzano e abbassano solo una porzione di lo spettro audio quindi se noi dividiamo il nostro aspetto a spettro audio che tipicamente va da 20 e 20 milahertz lo dividiamo per due e ci aggiungiamo due manopoli avremo potenziometro degli alti e potenziometro dei bassi se lo dividiamo in tre avremo alti medi e bassi se lo dividiamo in 7 8 porzioni avremo un equalizzatore a 7 8 bande possiamo arrivare a 15 bande fino a 31 bande quindi la quantità di bande in cui il range di frequenze viene tagliato farà chiamare il nostro equalizzatore a ottave a terzi d'ottave oa due terzi di ottave a seconda appunto di quante potenziometri a sul frontale stiamo parlando dell'equalizzatore grafico che si chiama grafico proprio perché permette di afferrare con la mano con le dita ogni frequenza di alzarla abbassarla ricchiando ricreando sul frontale dell'apparecchio quasi una ricostruzione visiva dell'intervento che andiamo a fare sulla banda audio ecco che si chiama grafico proprio perché graficamente vediamo che cosa sta succedendo in realtà quello che noi creiamo sul frontale del nostro equalizzatore non è esattamente quello che succede alla banda audio dovete sapere che ogni volta che andiamo alzare ad abbassare uno dei potenziometri delle slitte degli slider dentro una frequenza non alziamo solo quella frequenza ma anche gli immediati dintorni quindi un po destra e un po sinistra e questo è il problema degli equalizzatori grafici quindi non solo hanno una non perfetta prevedibilità di quello che stiamo facendo ma anche un problema tipico di questo tipo di filtri e cioè le rotazioni di fase purtroppo questi filtri che sono sono poi altro che dei crossover moltiplicati per x volte introducono quando vengono utilizzate delle piccole rotazioni di fase ancora una volta abbiamo sul canale un video che parla delle rotazioni di fase che vi invito a guardare quindi quando noi andiamo ad agire su un equalizzatore grafico non importa se a due bande se a sette bande se a 31 bande andiamo a modificare non solo la risposta in frequenza esaltandola o diminuendo la ma andiamo a toccare purtroppo anche inconsapevolmente anche la fase di quello spettro di frequenze su quale siamo intervenuti e questo crea risultati non prevedibili e assolutamente strani anche l'equalizzatore parametrico non è esente da questi effetti ma un po meno anche perché nasce in maniera sostanzialmente diversa allora si chiama parametrico un equalizzatore perché invece che lavorare su un solo parametro cioè la frequenza in questione quella di interesse può essere non solamente alzata e abbassata di volume come faceva l'equalizzatore grafico ma la frequenza di interesse prima cosa può essere scelta in modo continuo con una rotella o anche con un mouse quindi non sono preimpostate su frequenze su bande prestabilite possiamo quindi scegliere il primo parametro che abbiamo visto che è la frequenza di lavoro possiamo scegliere ovviamente la quantità di intervento cioè quanto alziamo e abbassiamo questo lo si poteva fare anche prima ma possiamo scegliere il terzo parametro che è la pendenza dell'intervento cioè nei dintorni lo vedete intanto in questo grafico spero che sia più intuibile di quanto sto per dirvi e cioè che negli intorni della frequenza di intervento c'è un range di frequenze nel quale l'intervento stesso si fa sentire la rapidità di questa campana di questo q come si chiama nel gergo tecnico è la terza variabile molto importante perché potremmo decidere di fare un intervento che alzi abbassa la frequenza di pochi decibel ma su un range molto ampio oppure viceversa di tanti decibel su un range molto stretto fino ad arrivare ad un notch filter c'è un filtro molto molto stretto ad esempio quello che si usa per togliere i fischi o i ronzi nel caso ce ne fosse bisogno quindi equalizzatore grafico tante bande in intervento sul quale possiamo intervenire solamente in esaltazione o meglio ancora in attenuazione come la buon igiene del fonico raccomanda o equalizzatore parametrico che permette di intervenire su poche frequenze ma con molto più elasticità molto più precisione di intervento entrambi gli equalizzatori hanno le loro specificità non ha detto che sia per forza meglio uno o meglio l'altro tutte e due intervengono sulla risposta di frequenza tutte e due purtroppo hanno risvolti anche sulla fase cioè su quelle piccolissime cioè l'abbiamo già detto su quelle piccolissime variazioni di tempo che si hanno quando sono rimbalza sul muro quindi pensare che con l'equalizzatore andiamo risolvere tutti i problemi in ambiente capite che è decisamente aleatorio e quindi che consigli possiamo dare beh prima cosa di lasciare gli equalizzatori a chi ne ha effettivamente bisogno poi possiamo raccomandarci di usare gli equalizzatori con parsimonia se vedete che il vostro lavoro di equalizzazione raggiunge livelli esagerati cioè che sul vostro equalizzatore ci sono un sacco di potenziometri che si muovono l'impazzata per forse il caso di vedere forse al caso di cercare il problema da qualche altra parte un'altra raccomandazione potrebbe essere quella di lavorare spesso in attenuazione piuttosto che in esaltazione se il nostro suono ha bisogno ad esempio di più alti più bassi cosa che succede quasi sempre non ho detto che dobbiamo per forza saltare alti e bassi possiamo togliere anche un po di medi e di solito questo ottiene un risultato migliore neanche tanto stranamente e concludere il tutto facendo gli auguri di buone feste visto il periodo e con il solito a presto a presto